Il piano è un po' il ritardo di preparazione, sono tutti giovani che sono alla prima esperienza di un campionato professionista, è chiaro che devono maturare, devono iniziare a fare l'oste e cercano di fare più presto. Il primo gol è partito da una rimessa laterale che in Guadalini ha segnalato l'arbitro non altale. Sulla zona di partenza, al momento in cui ci fosse stata la rimessa laterale, probabilmente il calciatore si sarebbe trovato da sud, diciamo in quella zona del campo. Sulla zona di partenza, al momento in cui ci fosse stata la rimessa laterale.